Oggi parliamo di un argomento molto interessante, Google Search Console. Che cos'è Google Search Console? È un programma, forse il programma più importante, per far capire a Google che un contenuto dei nostri siti web deve essere indicizzato, quindi visibile all'interno dei motori di ricerca. Abbiamo già parlato di questo argomento, ci abbiamo fatto già uno o due video, sicuramente due o tre video sul canale dedicati, ma vedo a chi piace particolarmente e alcune cose comunque non sono ancora molto chiare, probabilmente perché l'abbiamo sempre applicato a diversi esempi, ma non l'abbiamo mai visto nello specifico. Quindi a sto giro andiamo un attimino a capire perché utilizzare Google Search Console, come si usa Google Search Console e quali sono le cose appunto che ci aiuta a fare per indicizzare un sito internet e posizionarlo all'interno di Google. Passiamo sul monitor. Prima cosa da fare è andare ovviamente su Google Search Console. Bene, raggiungiamo questo sito che è il sito appunto di Google Search Console, dove come possiamo notare abbiamo praticamente un andamento generale del sito web. In questo caso ho il mio sito, tra l'altro questo dovrei cancellarlo, è senza HTTPS, teniamo questo, perfetto. Abbiamo il rendimento, sappiamo quali sono le query, quindi le domande, le parole, le parole chiave. Più cercate chi rimanda dal nostro sito, perlomeno per questo momento, per questi ultimi tre mesi. Abbiamo le pagine più visitate, insomma i paesi. È un po' un ibrido tra Analytics e Google Analytics, se già lo conosci. e se ho zoomto, se proprio vogliamo mettere lì, un programma quindi di analisi di parole chiave. Unendo quindi l'andamento e l'interesse degli utenti, possiamo capire appunto come il nostro sito sta funzionando. Ma facciamo un passo indietro, perché prima di capire dov'è l'area geografica di riferimento, quali sono le pagine più viste e con quali keyword e query, in questo caso, le persone raggiungono il nostro sito, dobbiamo prima sapere se il nostro sito è visibile e se è raggiungibile, quindi. Vediamo appunto come si fa. Partiamo da un esempio pratico. Io adesso qui ho aperto il mio blog, ok? Il mio bellissimo blog. Vado a creare un nuovo articolo. Ok, il nuovo articolo è un WordPress classico, abbastanza banale. Aggiungo un nuovo articolo e io qui con ChatGPT, tra l'altro ci abbiamo fatto anche già un esempio di scrittura di articoli e di indicizzazione grazie a ChatGPT, ho creato un articolo. Ti lascio comunque il link di questo video che è molto interessante, vatterò a vedere. Insomma, con ChatGPT ho creato un articolo creato a come funziona, creato appunto a spiegare come funziona Google Search Console. Quindi ChatGPT ci va a scrivere un titolone e lo andiamo a mettere qua nel titolo. Poi andiamo a copiare tutta questa parte di testo. Perfetto. Sbam, copia. E andiamo qui e lo incolliamo. Perfetto. Ok. In questo caso adesso, anzi, facciamo così, lo incolliamo così. Ok. Adesso qui alcune robe saranno un po' da sistemare, però, 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 ce lo facciamo andare bene. Ora, vuota l'altro visto che qua, ok, vai su Google Search Console, ok, vai su Google Search Console, qua possiamo mettergli un link che manda appunto a Google Search Console. Quindi questa pagina qua, che è la pagina un po' iniziale. La copio. E la vado a mettere nei link. Insomma, creiamo un articolo. Ok. URL, aggiungi. Perfetto. Ora, gli vado a mettere anche una frase chiave, ok, quindi come funziona Google Search Console. Ok. A livello di se non sarà bellissimo, ma magari mettiamo anche un'immaginetta. Andiamo qui, io me ne sono già scaricata una. Vediamo se la becco qua. Da Pixabay, bellissimo sito per scaricare immagini gratuite. E vabbè, ok, messo dentro l'immaginetta. Testo alternativo, anche qua mettiamo come funziona in Google Search Console. Inserisci nell'articolo. Poi io qui magari potrei dirgli che deve essere al 100%. Vabbè, tutta roba. Tutta roba di codice noiosa. E perfetto. Qui abbiamo una parte che non mi interessa. Ok, lo puliamo un attimo. Vabbè, c'è dentro un po' di cacca che ho ereditato dal copy and call. Ha fatto proprio male, male, male. Però il risultato appunto è questo. Non ci interessa adesso andare chissà a quanto a posizionarlo. Però mi interessa farti capire come possiamo indicizzare un nuovo articolo, quindi un contenuto del sito web e quindi come possiamo appunto essere visibili su Google. Salviamo il nostro articolo. Anzi, prima mettiamo anche un'immagine di copertina che appunto teniamo ancora questa. Tac. Lo metto nella categoria blog, così lo trovo nel blog e poi tac, lo pubblico. Una volta pubblicato ovviamente cosa succederà? Succederà che io se vado sul blog, adesso non guardare che è un po' bruttino questo articolo qua, ok? È fatto proprio base base, non è neanche scritto bene, non mi interessa. In questo caso voglio fare un esempio rapido. Ho un nuovo articolo, quindi un nuovo URL che se è scritto mi fa raggiungere appunto il sito web. Come faccio a capire se questo URL è su Google o non è su Google? Ma scorciatoia rapida rapida, vado su Google e metto fra le virgolette il nome, cioè il mio URL completo. Faccio invio e vediamo, vediamo, ma no, non c'è il mio blog, ok? Ci sono altri risultati, questo qua tra l'altro è il video del quale ti parlavo prima, ci sono altri risultati, ma il mio blog non c'è. È normale, l'ho pubblicato un secondo fa, quindi è giusto che non ci sia. Allora cosa faccio? Vado su Google Search Console, carico, ok? Creo una proprietà nuova, aggiungo il sito web, una volta che tu lo aggiungi qui, in automatico fai la verifica e te lo trovi qui dentro, ok? E allora a questo punto possiamo andare in controllo URL, ci clicchiamo sopra, si attiva questa barra qua, io incollo il mio URL e premo invio. A questo punto Google Search Console va a vedere tutti i dati, va a leggere questo URL e va a capire se questo URL è già presente su Google, quindi è già indicizzato, oppure se non è presente, come succederà nel nostro caso. Quindi, aspettiamo un attimo, lui qui fa la sua bella ricerchina, dopodiché dovrebbe appunto farci vedere se questo risultato c'è già, perché? Perché magari il sito è andato online e da solo dopo un po' di tempo comunque lui si indicizza, ma se vogliamo velocizzare questa cosa e essere certi che il nostro nuovo URL, quindi la nostra pagina, sia posizionata, cosa facciamo? Andiamo qui, controllo URL, la incolliamo e eccolo qua il risultato. L'URL non si trova su Google. A questo punto cosa facciamo? Andiamo qui e clicchiamo su richiesta di indicizzazione. A questo punto lui fa la sua bella verifica, quindi impiega ancora i suoi 1-2 minuti di tempo, insomma è un po' lento, ma d'altronde è un lavoro che dobbiamo fare in un certo modo e dopodiché ci darà la conferma, salvo appunto case particolari di qualche errore di configurazione errata, ci darà la conferma appunto che il nostro sito web può essere indicizzato e quindi viene preso in carico da Google, viene messo in coda e in questo modo possiamo accelerare il processo di indicizzazione, quindi di presenza del nostro sito, in questo caso della nostra pagina, all'interno di Google. Cosa succederà? Succederà che tra una settimana, due settimane, un mese massimo, ma casi estremi, anche va la lampada, succederà che quando andiamo su Google e cerchiamo quell'URL, l'URL ovviamente riporterà il nostro sito web, ma cosa ancora più utile? succederà che se io metterò l'argomento di interesse, quindi come funziona Google Search Console, guida completa Google Search Console, quindi le parole che ho all'interno del mio sito, a quel punto anche il mio sito, la mia pagina viene mostrata all'interno di Google ed ecco che il risultato è stato raggiunto. Qua abbiamo la conferma della richiesta di indicizzazione, tac, e a questo punto non ci resta che aspettare. Bene, fammi sapere se ti è piaciuto questo video, direi che anche per oggi è tutto, scrivimi nei commenti, nuovi argomenti che ti potrebbero interessare, così che almeno andiamo a approfondire questi nuovi argomenti e li portiamo sul canale. E ovviamente se qualcosa non fosse chiaro di questo video, scrivimelo ancora nei commenti in maniera da poter rispondere ulteriormente alle tue domande. Se ti è piaciuto il video, ovviamente lascia un bel like, noi ovviamente ci vediamo alla prossima.